Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video, questo sarà un video in cui ho solo una piccola comunicazione da farvi quindi mi sono messa qui vicino alla porta, sono le 9 di sera, ho appena finito di fare un po' di contabilità ho detto adesso lo faccio il video per le ragazze perché voglio comunicare questa cosa in generale perché è una cosa bella e va comunicata, come tutte le cose belle o anche le cose brutte mancomunicate però cose brutte e cose carine, insomma è sempre un piacere comunicarle anche se in realtà è un po' che c'è questa cosa ma io non mi sono mai su il rumore che sentite al ventilatore perché ci sono tipo 47 gradi, ho chiuso la porta quindi sto morendo di caldo, va bene e cosa sto facendo? è già un po' che c'è in atto questa cosa ma ho deciso di parlarvene solo adesso perché non ho chiesto l'autorizzazione per poterlo dire, quantomeno almeno alle mie clienti nel gruppo perché è giusto che lo sappiano, però poi ho deciso, ma sì facciamo anche un video generale su questa cosa perché è una cosa molto bella a cui io partecipe anche se non in via completamente diretta quindi questo video per magari qualcuno che potesse dire, eh sì certo sta facendo questo video così almeno le dicono brava e così almeno no, allora premessa, io non centro nulla o meglio, io sono solo un tramite in questa cosa quindi se posso centrare è solo per il discorso della mia capacità di vendita mettiamola così praticamente perché ho avuto un commento qualche giorno fa con degli ultimi video dove mi si chiedeva dove reperivo la roba e io ho specificato che principalmente un conto vendita, un acquisto in stock cioè ci sono molti modi per reperire merce solitamente faccio un conto vendita o l'acquisto in stock dei capi di abbigliamento in base a chi me li porta, che cos'è, come mi va, come mi gira, come mi sveglio come mi butta la giornata ho la facoltà di poter scegliere questo essendo ovviamente una ditta individuale dove sono io, capo di me stesso me stessa, me stessa, me stessa, sono una donna per fortuna tutto ciò è possibile quindi va un po' così però è un po' di tempo che collaboro con questa ragazza che mi porta dei vestiti molto belli che vedete tutti i giorni io adesso ho deciso che quando ci sarà questa cosa lo segnalerò perché è giusto anche saperlo cioè è giusto saperlo, è giusto sapere che si fa del bene e niente, un po' di tutti questi vestiti che avete visto nel corso del tempo perché ormai è parecchio che collaboriamo praticamente il ricavato della vendita di questi vestiti non il mio guadagno quindi io non c'entro nulla io non ho l'aureola, le ali spero non neanche le corna insomma, non so se le corna si possono redimere nel corso del tempo spero di sì non so se vedete corna Massimo c'ho le corna ho delle corna addosso, non lo so tolte le corna non ho nessuna aureola nessuna, purtroppo almeno non ancora e comunque a parte gli scherzi sto cercando di stromatizzare per far sembrare il tutto molto più leggero che poi è giusto così praticamente vediamo se ne salvo il video innanzitutto ok, me l'ha salvato io sono terrorizzata l'idea che non mi salvi il video mentre parlo a vuoto cerco di sintetizzare che non riesco a sintetizzare quello che voglio dirvi è che il ricavato appunto di tante cose che io vi mostro giornalmente perché mi arrivano appunto in conto vendita non ripeto il mio guadagno personale perché quello purtroppo va allo stato fondamentalmente quasi per lo più chi ha partito a IVA lo sa e a parte il mio piccolo guadagno insomma il mio guadagno della vendita di questi capi che sono a prezzi veramente ridicoli, assurdi ma a me piace così e io sono così quindi giusto fortunati chi comprano cioè fortunati voi che comprate insomma e chi non ha ancora comprato cosa starà aspettando io non lo so in ogni caso facciamo un po' di propaganda e la provvigione che viene data a questa ragazza che non è tutto cioè non è che lei da sola che fa tutto praticamente questa associazione chiamiamo l'associazione è un'associazione credo non voglio dire stupidate e riceve appunto in dono dalle persone generose e quindi ci sono di mezzo è una catena quindi non sono né io né lei ma né voi che comprate le ragazze che comprano ma è tutta una catena un'unione di persone per fare qualcosa di carino e ricevono questi vestiti dopo ci sono tutte le loro vendite di beneficenza eccetera eccetera però per la maggior parte le cose particolari insomma le cose che non sono magari facilmente vendibili magari in un mercatino di beneficenza così e vengono date a me a me alle mie mani verde fluo alle mie unghiette verde fluo che sembrano il Grinch praticamente il ricavato quindi la loro provvigione che io do nel tempo insomma in base a quando faccio la contabilità quando riesco viene data in aiuto ai bambini dell'Ucraina sapete che in Ucraina c'è la guerra io poi adesso non voglio parlare di questo nel senso che non avrei neanche le competenze necessarie però ci tenevo a dirvi che chi compra comunque qui in questo modesto posto del creato creato dalla sottoscritta non si sa in quale in quale maniera il ricavato appunto che io do come provvigione a questa persona che fa da tramite che viene utilizzato per aiutare questi bambini i bambini appunto che sono vittime della guerra in Ucraina vittime innocenti e per vittime intendo anche proprio di violenze ovviamente psicologiche e c'è appunto questo centro dove aiutano appunto questi bambini che vengono anche per un periodo temporaneo qui da noi in Vallecamonica sono stata anche invitata ad andare a trovarli insomma a conoscerli a fare un po' con loro ed è una cosa che voglio assolutamente fare anche se io l'ho già detto anche alle mie clienti non è che io sia super domestica con i bambini però con qui pochi bambini con cui ho avuto a che fare nella mia vita anche qui in negozio bambini di conoscenze insomma i bambini sembra che siano cioè siano felici di interagire con me e interagisco anche molto piacevolmente anche con i bambini dei miei clienti quando vengono a trovarmi le bambine soprattutto ma anche i bambini e quindi sicuramente farò questa cosa ci tenevo a dirvelo perché secondo me è una cosa bellissima e che non ho mai detto in realtà ma non che non l'abbia detto perché non volevo dirla volevo tenerla nascosta ma semplicemente perché non mi è mai venuta l'ispirazione di fare un video dove mi parlo di questa cosa anche come vedete che non è che sia molto in grado di comunicare in maniera fredda esaustiva e perspicace e sintetica e spero che voi abbiate capito il concetto quindi chi sceglierà di comprare il baule della Veronica farà anche questa cosa e sono molto contenta le mie clienti nel gruppo sono state molto soddisfatte di questa cosa e molto felici di saperlo ed è una cosa bellissima quindi oltre ad aiutare magari ogni tanto gli animaletti si fa anche qualcosa di bello per questi poveri bambini che hanno subito molto sfortunati hanno subito queste brutte cose e poi ecco non sono capace di fare discorsi diciamo in questo ambito quindi forse è meglio che mi metta a parlare di vestiti però ci tenevo davvero qui veniva da conoscenza di questa cosa secondo me bellissima e io ovviamente sono solo un tramite quindi non faccio nulla se non cercare di riuscire a vendere cioè a vendere i vestiti insomma cercare di riuscire di vendere i vestiti per fare comunque anche qualcosa di buono e mi sento comunque in un certo una piccola percentuale partecipe anche di questa bellissima iniziativa e ringrazio davvero la ragazza che permette tutto ciò e permette anche di rendere lo shopping una cosa anche in più perché visto ovviamente come una futilità è una futilità però noi siamo donne a noi piace comunque vestirci insomma essere carine e in più facciamo anche qualcosa di bello quindi ringrazio tutte le mie clienti che ogni giorno partecipano attivamente al mio gruppo vendita Whatsapp e ringrazio anche se eventualmente qualcuno di voi volesse mai aggiungere il mio numero sempre 348-4271-770 per poter entrare a far parte di questa meravigliosa community del Vaule della Veronica dove si fanno grazie alla partecipazione di persone incredibili si fanno anche queste belle cose mi piace mando un cuoricino così ho un cuoricino verde e non lo so fatemi sapere se mi sembra un altro ovviamente ripeto io ho fatto solo da tramite faccio solo da tramite ma è giusto che voi lo sappiate ed è giusto anche che venga sensibilizzata la gente con questa tematica sicuramente se andrò a trovare questi bambini ve lo ve lo comunicherò non so se potrò fare un video non credo che sia il caso però non tanto io appunto sia un po' selvatica con i bambini mi auguro sempre che si approccino a me abbastanza volentieri speriamo bene mi interroggiate mi mando un grosso bacione non ci sono vestiti oggi ma solo una piccola comunicazione fatemi sapere dai cosa ne pensate di questa cosa io sono rimasta molto entusiasta anche quando ho realizzato bene la cosa come fosse collocata è stato anche d'aiuto all'ospedale che hanno bombardato qualche giorno fa così mi ha detto la ragazza e mi ha fatto molto piacere mi ha fatto molto riflettere ed è giusto anche cercare di aiutare in qualche modo ma anche con piccolezze come quello che faccio io diciamo perché non faccio nulla di speciale però se riesce diciamo a fare qualcosa di carino però ragazze fate bei sogni ciao